Rosa Sorrentino, Arianna, David, che arriva con la bussa e corona, con la bussa anzi, ci siamo, un forte applauso a tutte le Miss, a tutte le 68 Miss di questi giorni, 86, sono veramente tante, non ti mai avute così tante race? Sono divertite, ci siamo divertiti, sono stati 4 giorni molto molto intensi di iniziative, di eventi, divertimento, di tensione anche, di formazione, penso che sia un'esperienza gratificante e importante per tutte. A questo punto vedremo passare la corona dal capo di Rosa, che è contentissima, come vedete, di passare la corona. Felicissima. La corona è con lei che porterà il titolo per un anno. Allora, vuoi passare di là, Dennis? Così agevoliamo meglio, ci spostiamo. Ah, lo tutto di questo titolo l'ho fatto alla grande per un anno, ora però, tra qualche istante, tra qualche secondo, questa corona per mano di Dennis Paganelli, quella fascia per mano di Erianna Davide, passerà su un'altra, bella, bellissima, che vince, ricordatevelo sempre, tra tante altrettanto bellissime, e questo gli dà ancora più valore. Siamo per incoronare l'Ambis, principessa d'Europa 2019. E' Miss, principessa d'Europa 2019. Un titolo che le porterà, le aprirà tante porte, le porterà probabilmente, glielo auguriamo, tanta fortuna nel mondo dello spettacolo, come è accaduto per tante altre ragazze. E' Miss, principessa d'Europa 2019. La concorrente, la concorrente numero 38, Mariana Olufriciuk. La concorrente, la concorrente numero 38, Mariana Olufriciuk. La concorrente, la concorrente numero 38, Mariana Olufriciuk. La concorrente, la concorrente numero 39, Mariana Olufriciuk. La concorrente numero 38, Mariana Olufriciuk. La concorrente numero 39, Mariana Olufriciuk. L'emozione le fa quasi cantare la corona al capo. E' lei la principessa, e' lei che riceve l'abbraccio di tutte le ragazze, di tutte le Miss di questa edizione 2019. iscriviti al canale iscriviti al canale